Ciao Ciao Pilota Tommy Si senti un cazzo Tanto vuoi vedere un briletto Non vuoi vedere la qualità dei video Un canale Master Santo Don ин la prima volta la prima vita mia o cos'è lei? Non mi esagererei, eh? Ah, per farlo tanto. Eh, no, per farlo tanto. Per farlo tanto. Sbaglio? Perché controllo un attimino, controllo magari. ... Grazie a tutti.